2 minuti 2, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Vogliamo chiudere la settimana con una notizia positiva. Gela con le mura di Molandè di Caposoprano, con i suoi siti archeologici, il museo e con ciò che verrà, cioè il museo della navigazione che conterrà il relitto della nave greca, entra nella costa del mito, che è un progetto che coinvolge Agrigento, Gela e Trapani, la città di Selinunda, la zona archeologica di Selinunda. In sostanza spiagge, mare, tanta archeologia, tanta cultura, tanta storia, in tre località che racchiudono una parte importante della Sicilia e che per quanto riguarda Gela è una grossa opportunità. Il progetto verrà presentato lunedì, è della valle del distretto del Tembli e riguarda appunto la possibilità di collegare queste tre zone e offrire quindi un'opportunità unica ai visitatori. Per Gela è importante perché spesso viene scartata da questi circuiti, anzi è sempre stata fuori da circuiti importanti, tant'è che i turisti da Siracusa passano per Piazza Armarina, ma i passano Gela per andare ad Agrigento. Così si spera invece di rientrare in un progetto che porta in voglia la gente, i turisti del campo culturale e gli appassionati del mare a venire a visitare anche Gela mentre fanno questo giro verso poi Selinunda, passando per Agrigento o viceversa partendo da Sirnunda per arrivare poi come ultima tappa a Gela. Sarebbe bello se si riuscisse a creare un biglietto unico per queste visite, per queste zone archeologiche in modo da cementare ancora di più questo passaggio. Prendiamo quindi questo progetto come un piccolo segnale di positività e di investimento verso un settore che è importante per Gela, su cui si sta puntando e su cui molto, tantissimo, bisogna ancora fare. Ma da qualche parte bisogna cominciare. Consideriamolo, abbiamo detto, un punto di inizio guardando in positivo. Al prossimo appuntamento. Due minuti due. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. Due minuti due. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.